Domenica 26 novembre 2023 è il giorno della 26esima edizione di Le Stelle del Ring che si svolgerà al Palasport Mario D'Agata in Via Golgi 36 ad Arezzo. 14 match pro K1 con i più grandi atleti nazionali e internazionali di sport da combattimento tra cui un titolo intercontinentale ATF, un titolo italiano VKN e due titoli europei VKN. Ad arricchire ulteriormente l'evento sarà il concerto dal vivo di Pony tra le più amate e seguite cantanti albanesi che da anni è ai vertici delle classifiche musicali del suo paese e che vanta un curriculum con 7 album, centinaia di concerti in tutti i continenti. Dopo il sold out delle prevendite l'appuntamento è direttamente al Palasport Mario D'Agata il 26 novembre. Altre informazioni? Pagine Facebook e Instagram, palestre Fit and Fight Subiano, Fight and Gym Arezzo, pagina Facebook del team Iachini Team Boxing.